Vedo che ognuno troverà la sua strada, parleremo senza parole, vedo che conosceremo i segni del cielo. Non c'è, guarda che è già così. Oggi tutti possono avere il Vodafone Smart Android a 99 euro, con la prima offerta ricaricabile tutto incluso. Perché l'importante sei tu, Vodafone. Grazie a tutti.